6. La seguente conversazione, svoltasi fra le due giovinette alla pump room una mattina, otto o nove giorni dopo essersi conosciute, sta ad attestare il loro grande attaccamento e la delicatezza, il discernimento, l'originalità di pensiero e il gusto letterario che lo alimentavano. Isabella era arrivata all'appuntamento che aveva con l'amica già da cinque minuti e le sue prime parole naturalmente furono, anima mia, come mai così in ritardo? È un secolo che ti attendo. Davvero, sono desolata, ma credevo proprio di arrivare in perfetto orario. È l'una in questo momento, spero che tu non sia qui da molto tempo. Oh, almeno da dieci secondi. Sono sicura di essere qui da mezz'ora, ma adesso finalmente stiamo insieme. Andiamo a sederci all'altro lato della sala. Ho cento cose da dirti. Stamani avevo paura che piovesse proprio mentre stavo per uscire. Il tempo sembrava piovoso e ciò mi spingeva alla disperazione. Senti, ho visto ora in una vetrina di Milsom Street il più delizioso cappellino che si possa immaginare. È molto simile al tuo, ma con i nastri rosso papavero invece che verdi. Ne avrei una gran voglia. Ma dimmi, cara, che cosa hai fatto tutta la mattina? Hai continuato a leggere Udolfo? Sì, da quando mi sono svegliata non ho smesso di leggere. Sono arrivata al velo nero. Davvero? Com'è bello! Per nulla al mondo ti dirò che cosa c'è dietro il velo nero. Scommetto che muori dalla voglia di saperlo. E come? Che cosa può esservi? Ma non dirmelo. Non voglio che tu me lo dica a nessun costo. So che deve esserci uno scheletro. Sono sicura che è lo scheletro di Laurentina. Oh, mi piace tanto quel libro. Ti assicuro che passerei tutta la vita a leggerlo. E se non fosse stato per venire da te non me ne sarei distaccata per tutto l'oro del mondo. Cara, come te ne sono grata. E quando avrai terminato Udolfo leggeremo insieme l'italiano. Ho preparato per te un elenco di dieci o dodici libri dello stesso genere. Bene, come sono contenta. Che libri sono? Te ne leggerò i titoli io stessa. Li ho annotati nel mio tacquino. Il castello di Wolfenbach. Clairement. Avvertimenti misteriosi. Il negromante della foresta nera. La campana di mezzanotte. L'orfano del Reno. Gli orribili misteri. Ne avremo per un pezzo. Benissimo. Ma sono tutti impressionanti. Ne sei sicura? Te lo assicuro. Perché una mia amica intima, Miss Andrews, una cara ragazza. Una delle più deliziose creature del mondo. Li ha letti tutti. Vorrei che tu conoscessi la Andrews. Ne rimarresti incantata. Si è fatta un mantello a maglia delizioso. È un sogno. A me sembra bella come un angelo e ce l'ho con gli uomini perché non l'ammirano. Li rimprovero tutti severamente per questo. Li rimproveri perché non l'ammirano? Sì. Farei qualsiasi cosa per le mie vere amiche. Non so che cosa significhi amare a metà. Non è nella mia natura. I miei affetti sono sempre molto profondi. L'inverno scorso ha un trattenimento. Disse al capitano Hunt che poteva pur prendermi in giro per tutta la serata, ma non avrei ballato con lui se prima non avesse riconosciuto che la Andrews era bella come un angelo. Gli uomini, sai, ci credono incapaci di una vera amicizia e ho deciso di provare loro il contrario. Se mi capitasse ora di sentire a parlare male di te, mi risentirei moltissimo. Ma questo non è probabile, perché tu sei proprio il tipo di ragazza che piace agli uomini. Oh, cara, esclamò Catherine arrossendo. Come puoi dirlo? Ti conosco bene. Tu hai molta vivacità. Ed è proprio quello che manca alla Andrews perché, devo confessartelo, c'è in lei qualcosa di straordinariamente insipido. Oh, ti devo dire che ieri, proprio, mentre ci lasciavamo, ho visto che un giovane ti guardava con insistenza. Sono sicura che è innamorato di te. Catherine arrossì nuovamente e protestò. Isabel rise. È verissimo, parola d'onore. Ma vedo che qualsiasi ammirazione ti lascia indifferente tranne quella di qualcuno che non nomineremo. Non posso abiasimarti. E Isabel divenne seria. Comprendo i tuoi sentimenti. Quando il cuore è preso, so come si è poco sensibili all'attenzione della gente. Come appare insipido e privo di interesse tutto ciò che non si riferisce all'oggetto del nostro amore. Ti comprendo perfettamente. Ma non dovresti indurmi a pensare tanto a Mr. Tilney, perché forse non lo rivedrò mai più. Non rivederlo più. Mia cara, non dirlo. Sono sicura che questo pensiero ti renderebbe infelice. Ma no. Ammetto che mi trovavo bene in sua compagnia. Ma quando leggo Udolfo sento che nulla può rendermi infelice. Oh, che paura quel velo nero. Mia cara Isabel, sono certa che dietro ci deve essere lo scheletro di Laurentina. È strano.